La paura parte proprio da lui. Ecco perché devo dire che questa sera siamo particolarmente contenti ed emozionati di presentare finalmente il nostro progetto Nebulosa Anime Cuore, che si svilupperà in quello che noi abbiamo chiamato il My Paura Camp, un terreno meraviglioso che ci è stato affidato grazie ad un bando dal comune di Bustarsizio, che sarà il fulcro di tante attività, tutte gratuite e a disposizione delle associazioni e dei privati che sono diventati i nostri inseparabili e quanto mai preziosi compagni di viaggio. Prima di iniziare voglio chiedere al nostro sindaco se vuole dire...